Benvenuti, sono WarriorFiles85 e oggi ci troviamo nel mio primo unboxing. Allora, mi son voluto regalare, soprattutto per fare i video, questa nuova webcam della Logitech, la C920 Logitech Adcadri Pro Webcam. Allora, è una webcam con lenti Carzeis, come dice qui, è adatta, secondo quanto viene detto, un po' per tutti i tipi di utilizzi, anche YouTube, come si vede qui, come si vede qua sul, qui si vede benissimo. E' un bello tettino, come potete vedere qua, si vede un po' meglio. E adesso la... veniamo di... di aprirla. Allora... Allora... Uno... Due... 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 voglio rompere troppo ecco vabbè penso che questi fossero fatti dovessero rompere allora allora dobbiamo togliere questa parte qui allora un libretto delle spiegazioni dove ci dicono come dobbiamo installare la webcam allora questa è la webcam sembra abbastanza solida ha un attacco come potete vedere per posizionarla in questo modo in questo modo qui con un tripiede quindi poi vedo perché fosse un tripiede vedete è abbastanza maneggevole come si può adesso qui togliamo questa pellicola per aprirla e vedere come ok ok allora è tutta piena di pellicola per evitare allora penso che questo si incastri si incastri in questo modo in modo da averla sopra il nostro il nostro la nostra webcam poi adesso la proverò nella parte finale del video vi farò vedere la prova della webcam direttamente devo dire che ha un bel aspetto la webcam a me sinceramente piace molto anche esteticamente fa un bel poi avendo io una cornice un il colore nero del del mio visore del mio schermo va benissimo quindi adesso vi lascio alla prova vera e propria e poi vedremo un po' se veramente merita